Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo, diciamo, dei nuovi outfit Non uno solo, ma ben quattro outfit che potete fare per il personaggio donna ragazzi Quindi vi lascerò qui in alto a destra la scheda del glitch originale Perché qui andrò a spiegarvelo in linea di massima, diciamo, ve lo spiego ma molto velocemente E quindi andiamo a vedere, diciamo, che cosa dobbiamo fare Innanzitutto creare un personaggio uomo, se vogliamo, dei completi da donna E andiamo a vedere che parti andremo a mettere Allora, nel video ci sono parecchie transizioni Anche perché il video sarebbe durato veramente tantissimo ragazzi Quindi scusate, sapete che io non faccio tagli o cose Passiamo al completo Allora, in pratica il primo completo che andremo a fare Dobbiamo mettere guanti chirurgici bianchi Che comunque io vi lascerò Cioè vedete, non è che io vi lascio Vedete la numerazione nel video di tutti i guanti, i pezzi che io andrò a montare E... e fate lo stesso che faccio io ragazzi Quindi, una volta che abbiamo messo i guanti Andiamo in pantaloncini corti e dobbiamo mettere questi Pantaloncini boxer ovviamente Poi andremo in giacche da biker smanicate E metteremo... aspettate un attimo No, non è questa Questa qui ragazzi Mettete questa qui Poi andiamo in scarpe E mettiamo l'ultima scarpa ragazzi E questo sarà il nostro primo completo Quindi andremo a salvarlo E passeremo al secondo completo ragazzi Quindi salveremo il completo con un nome alla cazzo Come vi pare a voi Salvatevelo come vi pare E passiamo al secondo completo Allora per il secondo completo ragazzi Dovete prendere la tuta da stuntman Questa qui rosa Dovete togliere il casco Quindi andremo a togliere il casco E salveremo la tuta senza casco E' importante ragazzi che facciate questo passaggio Per poter fare il passaggio successivo Quindi salviamo la tuta senza casco Dopodiché andiamo in completi integrali E ne compriamo uno ragazzi Uno qualunque Non serve uno particolare Dopodiché andiamo alla spiaggia E andiamo verso il telescopio E dovremo ottenere questo risultato Cioè vederlo senza maschera Ma che non si mette al telescopio Dopodiché andremo a mettere Il completo quello rosa Che abbiamo appena salvato Cioè il completo numero uno In questo caso Ci allontaniamo dal telescopio E avremo questo risultato Una volta fatto ciò Andremo nel negozio di abbigliamento E andremo in giacche Dovremo andare a cercare La giarca frac ragazzi Quindi un frac nero Però comunque sia Se il video vedete che va veloce Rallentatelo un pochino E vedete i numeri Comunque penso che sia abbastanza comprensibile Una volta messo questo frac Avremo in pratica le scarpe Le scarpe rosa Del completo stuntman Ma non è finita qui ragazzi A questo punto Andremo di nuovo in giacche E andremo a cercare Una giacca aderente Azzurra Questa qui ragazzi Allora qui c'è un'opzione Possiamo mettere il gilet grigio Per far comparire il cinturone Della pulizia In pratica questo verrà un completo Con un cinturone della pulizia E poi qui andremo a mettere Un cappello Scusate ragazzi Mi sono scordato Sbagliato Insomma Dai Su Cioè può stare ogni tanto Che me sbaglio Una volta messo Un cappello Io ho messo questo Però voi potete mettere Qualunque cappello Prima dopo Durante Come cazzo vuole fare a voi Mettete i guanti Invernali Lana I guanti di lana Neri Insomma E andate a salvare il completo E qui abbiamo fatto Il secondo completo Ragazzi Allora Per Non lo farò vedere Nel video Però per salvare Per tirare fuori Il Diciamo Il Cinturone Da puliziotto Dovete andare In puliziotto Corrotto E poi avviare Una missione di contatto E vi comparirà Quindi A questo punto Ragazzi Poi a limite Se me lo dite Ve lo scrivo nei commenti Anche perché Sennò sarebbe stato Veramente troppo lungo Il video Ragazzi A questo punto Passiamo al terzo completo Il terzo completo Ragazzi Sarà un Completo A scacchi Mi pare Adesso Non mi ricordo Andiamo in giacche Mettiamo questa qui E Poi andiamo in maglietta E togliamo la maglietta Sotto la giacca In pratica Dobbiamo toglierla Una volta tolta La maglietta Andiamo In In tute Pantaloni sportivi Quindi andiamo in tute Io qui mi sono sbagliato Non so se santo cazzo Sono andato Perché sono andato In pantaloncini Sportivi Sicuramente Pantaloni sportivi Si E Niente ragazzi Andate in tute Una volta che andate in tute Dovrete cercare La bianca Con riga Adesso Non Non lo vedo Durante l'editing Il numero Della Della Tuta Però è questa qui Ragazzi Allora Una volta Messa questa tuta Andiamo Andiamo A scarpe Ragazzi Io purtroppo Durante l'editing Non li vedo i numeri Però quando il video Ha renderizzato Voi vedrete meglio I numeri In scarpe Andiamo in Scarpe sportive E andiamo a Selezionare Una Scarpa Questa scarpa Qui Lime Ragazzi Una volta Messa questa scarpa L'ultimo passo Che dovremo fare E andare In Catene Anzi Mettiamo prima Il cappello Ragazzi Allora Qui potete mettere O un fedora bianco Se ce l'avete Se avete il livello sbloccato Oppure Mi sembra che c'è Un cappellino verde Per poter fare I completi a scacchi Adesso non mi ricordo bene Però il fedora bianco Va benissimo Anche perché Io ho trasferito Il livello Dal primo Al secondo personaggio Quindi è ottimo Quindi a questo punto Andremo in catene E andremo a selezionare La catena Spessa dorata Mi sembra Qualcosa del genere Comunque Leggete sempre I numeri Ragazzi Una volta Che abbiamo Diciamo Selezionato la catena Che abbiamo La catena Che dobbiamo Dobbiamo Mettere Andiamo A salvare Il completo Perché è L'ultimo passaggio Che dobbiamo Dopodiché Potremo passare Al quarto E ultimo Completo Quindi salviamo Il completo Per il quarto Ed ultimo Completo Ragazzi Andiamo in Tuta e stante E compriamo Questa qui Nera E facciamo La stessa procedura Che abbiamo Fatto prima Quindi la compriamo Togliamo il casco E salviamo La tuta Mi raccomando Dovete farlo Questo passaggio Perché comunque Se non fate Questo passaggio Non vi rimarranno Le scarpe Da Diciamo Gli stivali Da Da stante Della tuta Stante Con questo Completo Uscirà fuori Un completo Da donna Con Stivali Stante Verdi E Mi sembra Un Una maglietta Di un modo Avversario Mi sembra Si Di una modalità Versus Quindi a questo punto Ragazzi Una volta Messo Il Tolto il casco Salviamo Il completo Io qui mi stavo Dimenticando Andate in Completi integrali Nuovamente Mettete Un completo Integrale E fate La stessa procedura Che Che abbiamo Fatto Prima Quindi Una volta Fatta La stessa procedura Non ve l'ho Fatta vedere Ragazzi Perché Sarebbe Andata Per le Lughe Torniamo Qui In Negozio E Andiamo A comprare Questa Giacca Da Lavoro Comprata Questa Giacca Da Lavoro Abbiamo Finito Il Completo E L'unica Cosa Che Dobbiamo Fare Spero Che Vediate Bene Il Numero Della Giacca Da Lavoro Quindi Andiamo A Salvare Il Completo Lo salveremo Come Completo Numero 3 In questo Caso Una volta Salvato Il Completo Andiamo In Modalità Creatore Ragazzi Quindi In questo Caso Andremo A creare La gara Andremo A fare Tutto Quello Che Sappiamo Insomma Chi Conosce Il Glitch Sa Già Di Che Cosa Sto Parlando Comunque Lascerò In Descrizione Non In Descrizione Ancora Qui In Alta Destra Il Link Del Del Video La Scheda Diciamo Dove Ci Sarà Il Video Comunque Sia Dovete Creare Una Gara Con Tutti I Punti Di Attivazione Tutto Quanto E Dovete Provarla Una Volta Che L'avete Provata Schiacciate X Per Confermare La Prova Avvenuta E Poi Tornate In Cambio A Personaggio Seleziona Personaggio Quando Siete In Seleziona Personaggio Dovete Eliminare Il Personaggio Ragazzi Il Personaggio 2 Fate Attenzione Ad Quindi A Questo Punto Andremo A Cancellare Il Personaggio 2 Dovremo Scrivere Elimina Ragazzi Dovremo Scrivere Per Forza Lo Dobbiamo Scrivere Perché Altrimenti Il Gioco Non L'accetta Come Vedete Compare Elimina Ma Io Non Lo Clicco Perché Tanto Comunque Non Lo Accetterebbe Quindi Andate A Schiacciare Elimina Aspettate Il Tempo E Quando Vi Sarà Possibile Premete Cerchio E Tornate Nella Storia Quindi Adesso Andremo A Vedere Come Vedete Il Personaggio È Stato Eliminato A Questo Punto Ora Premeremo Cerchio Torneremo Nella Storia E Non Appena Saremo Nella Storia Andremo A Caricare Una Sessione Ragazzi Caricheremo La Sessione E Avremo I Nostri Completi Come Ho Già Detto Per Il Completo Con Il Cinturone Che Sarebbe Questo Dovete Entrare Prima In Poliziotto Corrotto E Poi In Una Missione Di Contatto Io Non L'ho Fatto Perché Qui Non Le Avevo Detto Questo Un Saluto A Tutti Al Prossimo Video No Mercy marijuana sagen Un En The Pen Voz das E Abra Des Web D Grazie.